Jake Gyllenhaal è nato in una famiglia immersa nell'ambiente cinematografico di Hollywood. Suo padre, Stephen Gyllenhaal, è un regista di origine svedese e sua madre, Naomi Foner, è una sceneggiatrice di origine ebraica, originaria di New York. Anche sua sorella maggiore, Maggie Gyllenhaal, è un'attrice e ha recitato con lui nel film Donnie Darko. Jake è discendente di Johann Abraham Gyllenhaal, un geologo e mineralogista appartenente alla nobile famiglia svedese dei Gyllenhaal. In svedese, il cognome Gyllenhaal potrebbe significare Salone d'Oro. Jake Gyllenhaal iniziò la sua carriera d'attore nel 1991, all'età di 11 anni, con il film Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche di Ron Underwood, dove interpretava il figlio di Billy Crystal. L'anno successivo avrebbe dovuto recitare in stoffa da campioni di Stephen Herrick, ma i suoi genitori glielo impedirono, ritenendo il set troppo lontano da casa per la sua giovane età. Negli anni successivi, pur avendo il permesso di partecipare ad audizioni, i suoi genitori gli proibivano di accettare i ruoli se fosse stato selezionato, sebbene fosse autorizzato a recitare in alcuni film diretti dal padre. Nel 1993, Gyllenhaal, insieme alla sorella Maggie, fu diretto dal padre Stephen in Dangerous Woman, una donna pericolosa, basato su una sceneggiatura della madre Naomi e nel 1998 partecipò a Homegrown, i piantasoldi. Prima del diploma, l'unico film non diretto dal padre a cui poté partecipare fu Josh and Sam, un'avventura per bambini poco conosciuta. Dopo essersi diplomato alla Harvard Westlake High School di Los Angeles nel 1998, si iscrisse alla Columbia University di New York nel 2000, studiando religioni orientali e filosofia, ma abbandonò gli studi dopo due anni per dedicarsi completamente alla recitazione. Il suo vero debutto come attore protagonista avvenne nel 1999 con Cielo d'ottobre di Joe Johnston, dove interpretava un giovane minatore ispirato dallo Sputnik a costruire un razzo per il lancio nello spazio. Il film incassò 32 milioni di dollari e Gyllenhaal ricevette recensioni molto positive per la sua performance. La notorietà internazionale e il plauso della critica per Jake Gyllenhaal arrivarono nel 2001 con Donnie d'arco di Richard Kelly, che divenne un film di culto. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 19 gennaio 2001, il film non ebbe un grande successo commerciale inizialmente, ma si trasformò in un fenomeno cult grazie a un solido gruppo di fan. Elvis Mitchell del New York Times elogiò la performance di Gyllenhaal, notando che era vicino a diventare una star grazie a ruoli importanti. Nello stesso anno Gyllenhaal partecipò al provino per il ruolo di Christian in Moulin Rouge, ma il ruolo fu assegnato a Ewan McGregor. Questo provino gli permise di instaurare una forte amicizia con Heath Ledger, che divenne suo amico intimo e padrino della figlia di Ledger e Michelle Williams, Matilda. Dopo il successo con Donnie d'arco, Gyllenhaal recitò in Fuga da Seattle di James Cox accanto a Jared Leto. Ottenne ulteriore successo con la commedia indipendente The Good Girl, in cui recitava insieme a Jennifer Aniston e che fu presentata al Sundance Film Festival nel 2002. Nel 2002 fece il suo esordio a teatro al Warwick Theatre di Londra con This Is Our Youth di Kenneth Lonergan, accanto a Hayden Christensen e Anna Paquin. Lo spettacolo, già un grande successo a Broadway, rimase in cartellone nel West End di Londra per otto settimane e la performance di Gyllenhaal gli valse il London Evening Standard Theatre Award come miglior attore esordiente. Dopo il film Bubble Boy, che non ricevette recensioni particolarmente positive, Jake Gyllenhaal confermò il suo talento nel 2002 con Moonlight Mile, Voglia di ricominciare, diretto da Brad Silberling e con Susan Sarandon e Dustin Hoffman. Nel 2004 Gyllenhaal fu considerato per il ruolo di Spider-Man in Spider-Man 2 dopo che Tobey Maguire aveva avuto un incidente. Tuttavia Maguire si riprese in tempo e tornò alle riprese. Questo permise a Gyllenhaal di recitare da protagonista in The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, che fu un grande successo al botteghino. Nel 2005 Gyllenhaal lavorò con il regista Ang Lee in I Segreti di Brokeback Mountain, una storia d'amore tra due cowboy interpretati da Gyllenhaal e Heath Ledger. Il film, che trattava tematiche di omosessualità, suscitò scalpore ma fu accolto positivamente dalla critica e vinse numerosi premi, tra cui 71 riconoscimenti e 52 candidature. Per la sua performance in Brokeback Mountain, Gyllenhaal ricevette numerosi premi, tra cui un BAFTA e uno Screen Actors Guild come miglior attore non protagonista e un MTV Movie Award per il Miglior Bacio con Heath Ledger. Inoltre fu candidato al premio Oscar nella stessa categoria. Stessa, dopo l'uscita del film, iniziarono a circolare pettegolezzi sul suo orientamento sessuale. In risposta a tali voci, Gyllenhaal dichiarò «Sai, è lusinghiero quando incominciano a comparire pettegolezzi che dicono sia bisessuale. Significa che so recitare in ruoli di più tipi. Sono aperto a tutto quello in cui la gente vuole vedermi. Non sono mai stato attratto dagli uomini sessualmente, ma non sarei spaventato se ciò succedesse». Nel 2005, Jake Gyllenhaal recitò nel film Jarhead di Sam Mendes, che esplora la vita di un soldato durante la Guerra del Golfo, e in Proof, la prova di John Madden, dove condivise il set con Gwyneth Paltrow e Anthony Hopkins. Nel 2007, Gyllenhaal fu protagonista in Zodiac di David Fincher, un film basato su eventi reali e che narra la caccia al serial killer Zodiac, mai catturato. L'anno seguente lavorò in Rendition, detenzione illegale di Gavin Hood, con Reese Witherspoon, Meryl Streep e Peter Sarsgaard, e prestò la sua voce al cortometraggio d'animazione The Man Who Walked Between the Towers di Michael Sporn, che racconta l'impresa dell'acrobata Philippe Petit. Il 6 luglio 2006, Gyllenhaal fu tra i 120 nuovi membri invitati a entrare nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ottenendo il diritto di voto per gli Oscar. La sua nomina fu ufficializzata il 20 settembre 2006. Nello stesso anno, la rivista People lo incluse nella lista dei 50 Most Beautiful People e dei Hottest Bachelors of 2006, confermandolo come uno dei sex symbol dell'anno. Il 13 gennaio 2007, Jake Gyllenhaal fece una partecipazione come presentatore al Saturday Night Live, dove, oltre a introdurre il gruppo musicale The Shins, si esibì in una parodia canora di Beyoncé nel ruolo di Dina Jones dal film Dream Girls, indossando parrucca e abito da sera femminile. Nel 2008, Gyllenhaal avrebbe dovuto recitare nella commedia Nailed di David O. Russell accanto a Jessica Biel, ma il film uscì solo nel 2015, sette anni dopo l'inizio delle riprese. Nel 2009, recitò nel remake di Brothers di Jim Sheridan, accanto a Tobey Maguire, mentre nel 2010 fu protagonista di Prince of Persia, Le sabbie del tempo, adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco, dove si preparò intensamente per il ruolo del principe Dustin. Nello stesso anno, Gyllenhaal recitò In amore ed altri rimedi di Edward Zwick, una commedia romantica con Anne Hathaway, che gli valse una candidatura ai Golden Globe. Le scene di sesso nel film sollevarono polemiche per la loro nudità esplicita. Inoltre, Source Code, di Duncan Jones, in cui era protagonista, aprì il Southwest Film Festival nel 2011. Nel 2012, Gyllenhaal recitò in End of Watch, Toleranza Zero con Michael Peña, un film che esplora la vita di due poliziotti di Los Angeles e ricevette una buona accoglienza critica. Tra il 2013 e il 2014, lavorò con il regista Denis Villeneuve in due film. Prisoners, al fianco di Hugh Jackman e Enemy, dovebbe un ruolo da protagonista. Nel 2014, Gyllenhaal interpretò Lou Bloom, un cameraman spietato e carismatico, in Lo sciacallo, Nightcrawler. Per prepararsi al ruolo, perse circa 10 chiula e ottenne una candidatura ai Golden Globe e una allo Screen Actors Guild Award per la sua performance. Nel 2015, Jake Gyllenhaal fu protagonista di Southpaw, l'ultima sfida di Antoine Fuqua, dove interpretò un campione di box. Per il ruolo, si dedicò a un intenso programma di allenamento in palestra per prepararsi fisicamente. Lo stesso anno, recitò anche in Demolition, Amare e vivere di Jean-Marc Vallée e Everest, un adattamento cinematografico della disastrosa spedizione sull'Everest del 1996, che aprì la 72 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2016, Gyllenhaal partecipò al film Animali Notturni, il secondo lavoro del designer Tom Ford, con Amy Adams, Armie Hammer e Aisla Fisher. Il film fu presentato al Festival di Venezia e gareggiò per il Leone d'Oro al miglior film. Sempre nel 2016 fu confermato come produttore e protagonista del film basato sul videogioco Tom Clancy's The Division, insieme a Jessica Chastain. Inoltre, nell'ottobre 2016, recitò e cantò nella produzione concertistica del musical Sunday in the Park with George D. Stephen Sondheim e James Lapine al City Center di New York. Nel 2017, Gyllenhaal interpretò il protagonista nel thriller fantascientifico Life, non oltrepassare il limite di Daniele Spinosa. Inoltre, a partire dal giugno 2017, fu distribuito su Netflix Okia, un film che racconta la storia di una ragazza di nome Mija che lotta contro una multinazionale per salvare il suo migliore amico e che era stato presentato al Festival di Cannes. Nello stesso mese di ottobre, Gyllenhaal fu scelto come testimonial del profumo Eternity di Calvin Klein, insieme alla modella Leah Kebed. Tra settembre e ottobre 2017, Jake Gyllenhaal presentò al Toronto International Film Festival e alla festa del cinema di Roma il film Stronger. Io sono più forte. La pellicola narra la storia di Jeff Bauman, un uomo che subì l'amputazione delle gambe dopo l'attentato alla maratona di Boston del 2013 e affrontò un lungo percorso di riabilitazione. Nel 2018 Gyllenhaal fu nel cast di Ai Fratelli Sisters, un western diretto da Jacques Odiard con John C. Reilly e Joaquin Phoenix. La stessa anno recitò in Wildlife il film d'esordio alla regia di Paul Dano, basato sul romanzo Incendi di Richard Ford. Inoltre, fu scelto per il ruolo di misterio nel sequel di Spider-Man, Homecoming Spider- Far From Home del Marvel Cinematic Universe. Nel 2019 Gyllenhaal interpretò un ruolo a Broadway nel dramma Sea Wall Alive, ottenendo una candidatura al Tony Award come miglior attore protagonista in un'opera teatrale. Nel 2021 prestò la voce al personaggio di Jim Prescott nel film d'animazione Spirit, Il Ribelle, e fu produttore e protagonista del thriller The Guilty. Inoltre, divenne testimonial della fragranza Ocean Luna Rossa di Prada. Jake Gyllenhaal è profondamente legato alla sua famiglia e alla sua fede ebraica, celebrando il suo bar mitzvah all'età di 13 anni. È anche padrino di Matilda Rose Ledger, figlia del suo amico Heath Ledger e di Michelle Williams, con cui ha lavorato nei I segreti di Brockback Mountain. Impegnato in numerosi progetti di beneficenza, Gyllenhaal sostiene diverse cause, tra cui la promozione della cultura, l'educazione, i diritti umani, la non-violenza e la protezione ambientale. È un sostenitore dell'ACLU, Unione Americana per le Libertà Civili, dell'associazione Not in Our Name, che promuove un patriottismo pacifico, e del College Summit, un'organizzazione no-profit che supporta l'accesso all'università per studenti meno abbienti. Ha anche partecipato alla campagna elettorale di John Kerry nel 2004. Per quanto riguarda l'ambiente, ha aderito all'iniziativa Red Carpet Green Cars, durante la 78a edizione dei premi Oscar, arrivando al Kodak Theatre, su un'auto a basso impatto ambientale. Inoltre sostiene le attività della Carbon Neutral Company per la difesa dell'ambiente, inclusi monitoraggio climatico e campagne di sensibilizzazione. Nel 2010 è entrato a far parte della campagna Stand Up to Cancer, collaborando con altre celebrità di Hollywood per raccogliere fondi e sensibilizzare sul cancro.